Siamo in Irlanda! E stiamo Irlandando! Cosa ne pensi di questo viaggio Chiara? Non ci sono gli scogliattoli, non mi piace! Scherzo scherzo scherzo! Mirti vienici a dare il tuo parele... Se la senti un po' cinese oggi! Mirti vienici a dare il tuo parele sindacabile e incorruttibile! Com'è l'Irlanda? Come ti sembra Dublino? Verde! Ovviamente Mirti si riferiva a questa flash buonissima che come vedete ci ha fatto il blu E comunque l'Irlanda ci piace tantissimo! Un po' di cane! Chi vedrà questo video pensierà che siete due roze! Nooo! Sì, non metto a cinese! Il tuo parele! Dopo questo il video si focalizzerà solo su di me! Penso che questo viaggio sia molto significativo perché ho riscoperto... Basta! Ciao! Una città con davvero tante posizioni... Ho riscoperto! Non l'hai mai vista! Diceo, guardate questo interru... Nooo! Queste interruzioni sono un po' stidiosi quindi... Niente... Penso che sia una bella città! Spero di tornare presto e domani per... Ciao! 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 Saluta educatamente! Salute! Ciao! Sono un po' di Sì! 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 Sei per il Paramore Fan Club? Sì. Me anche. Vi vengono l'entrismo. Sì. Ma me anche, ma ho due amici. Non so se posso vengare questo. Vediamo se... Per Southerniviano La storia è stata come una stessa di riparare sempre Aller天 Per i giovani 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 I해� buona Per i giovani 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 ok ah che bella visuale ci stanno parlando ma che ci parla sono entrati maledietti fa un culo tu vuoi entro? ma io l'ho firmato se che fai saranno quelle di Britain's Cutter Tower eh quando veste qualcuno proprio talentuoso eh brava dai amore molto bello ce l'ha tagliato ieri sera ah che dormuto ooooo ma si no ah no si c'era sicuro che lo conosco ma chi è? mi stanno facendo piacere non è non è non è non è sì in questo io c'è non è ma ma non è se vuoi cosa vuoi vuoi Sì, questo video è finato Questa una bella soggetta Siamo in prima fila! Oggi qui! Siamo fatte le foto con i para! Tranne in genere Mieli! Ma non è importante! Andiamo visti uscire e li rivedremo tra qualche ora per due... No, un'ora e mezza. Sì, un'ora e mezza. Un'ora e mezza dove rende di concerto! Wuhuu! 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 Potata! Non può andare! Erano Suzuki! Erih! Uno! Ahaaaaa! No la! Una… Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.